Assessore Vassallo, quest'oggi qui alla Rabina una nuova iniziativa sportiva. Io credo che questa mattina sia significativo intanto quello che è stato fatto qua, diciamo nella spiaggia che Imperia viene nominata alla Casa dei Certisti, quindi la spiaggia che rilancia un po' quello che è questa bellissima attività sportiva con una partenza con il botto perché abbiamo in pluricampione Matteo Iacchino che ha deciso di partire da Imperia per arrivare fino alla Corsica, quindi un'impresa direi di altissimo livello, uno sportivo che ha segnato un po' e sta segnando tuttora la storia del windsurf. Credo che questo sia un ringraziamento da fare a lui e il suo staff per aver scelto la nostra città e dall'altra parte un discorso di plauso nei confronti credo anche di quello che si sta facendo nella nostra città per fare sì che si rilanci, è una settimana significativa e quest'oggi insieme alla fine dei Dragoni per quello che riguarda la parte delle imbarcazioni, quest'oggi l'inaugurazione delle vere d'epoca e questa mattina siamo partiti anche da Imperia per arrivare alla Corsica con una cosa che credo che prima d'ora non era mai stata fatta. Il sindaco e tutta l'amministrazione credo che sia il nostro pregio quello di cercare di far crescere la nostra città nella miglior maniera possibile e continuare a farlo.